La sua convinzione che il nostro cinema sia importante e sia un tutt'uno, faccia parte della storia del nostro paese, lo ha proprio detto chiaramente, questo è molto importante per il nostro cinema, specialmente in un momento drammatico come quello in cui stiamo vivendo e Mattarella lo ha detto, la cultura non deve fermarsi, la cultura deve andare avanti perché anche con la cultura si riesce a superare i momenti oscuri della nostra vita. Ultima battuta, come immagina i suoi prossimi film, i suoi prossimi lavori senza le musiche del maestro Ennio Morricone? I film che farò saranno concepiti sulla base di nuove collaborazioni, però la grande lezione che in più di 30 anni di collaborazione ho imparato da lui ovviamente non andrà perduta, mi darà più forza, mi sento più attrezzato grazie a questa lunga esperienza e quindi posso andare benissimo avanti anche con altri collaboratori come sicuramente mi avrebbe suggerito Ennio stesso.